Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi anni la cucina giapponese ha preso letteralmente piede in Italia, diventando una vera e propria moda, ma con l'aumentare del consumo di pesce sono aumentate anche le intossicazioni alimentari. Tra l'anno scorso e quest'anno a Milano si sono verificati 80 case di sindrome sgombroide, una reazione all'istamina contenuta in esemplare di tonno, sgombro e altri pesci mal conservati e si manifesta con nausea, rossore, tachicardie e palpitazioni. La preoccupazione tra i clienti dei ristoranti è tuttora sempre più in crescita. Tu frequenti i ristoranti giapponesi? No, però ti giuro, guarda, l'unica cosa che ho mangiato in giapponese è il sushi. Alla fine questa storia dell'intossicazione non la sapevo. Però, sai, se vai a mangiare in quei posti del cassa, alla fine alla solfa possono capitare. Guarda, però ti con la verità, il sushi non è male, eh? Io l'ho provato grazie alla mia amorosa, veramente, e non mi sembra male. Sulla storia delle intossicazioni, secondo me, bisogna andare a vedere dove si va a mangiare, perché questa gente qua sai com'è, no? Penso che la maggior parte dei ristoranti cinesi e giapponesi che ci sono in giro sono delle bufale, non sono i veri ristoranti cinesi o giapponesi, semplicemente quello. Ma quando ci sono dei ristoranti seri, anche cinesi, giapponesi, qualsiasi cosa, li frequento. Peccato che siano pochi, intendo dire. E a prezzi chiaramente adeguati. Quelli che vanno in giro adesso, o gli Ucanite, eccetera, eccetera, ma boffo con 20 euro, non valgono una mazza. Per parlare chiaro e tondo, uno che cucina e frequenta i ristoranti queste cose dovrebbe saperle. Purtroppo non le sanno in molti, visto che continuano a proliferare. Sì, ogni tanto, spesso vado a Milano, così. E c'è una catena di ristoranti giapponesi che si chiama Osaka, molto conosciuta. I ragazzi ne parlano bene, non lo so. Io non sono un amante del sushi, cioè della cucina giapponese. Amo più cucina cinese, indiana, mediterranea. Quindi ne so poco di cucina giapponese. Quindi tutti i fili generalmente di questi ristoranti? Dipende, guarda, dalle volte guardo il prezzo, li guardo in faccia, anche se sembrano tutti uguali, sinceramente. Però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, diciamo così va. No, no, non completamente, se devo essere sincero. Soprattutto evidentemente per la roba cruda, il sushi, quelle cose lì. Cosa ti piace mangiare di solito in questi ristoranti? Ma ti giuro che il giapponese può solo il sushi. Però per il visco cinese a me è tipo la vita il gamberetto, il coso col gamberetto. Il coso, com'è che si chiama? Nighiri, roba del genere. In genere le cose tipiche, classiche, i vari involtini, cose del genere. Ma ripeto, io attualmente non li frequento, sono piuttosto malfidente, se devo proprio essere sincero. Non che gli altri sono migliori. Però chiaramente dopo averne girati tanti trovi qualcosa di buono e te lo tieni stretto. Però molti, sia italiani che giapponesi che messicani, sono una questione di moda. O di moda o di portafoglio. Questo non vuol dire che uno deve per forza andare a spendere 400 euro per un pranzo o una cena, come succede alla Francescano, all'Enoteca Pinchiorri. Però mi dispiace, tutto a un costo. Ma sono tutti dei nomi strani giapponesi, non saprei dire, mi sento abbastanza ignorante. Ma comunque il cibo giapponese è basato sul riso, cioè tutta roba con riso e pesce crudo. E certi, diciamo che nel mondo oggi, gli oceani e i mari sono molto inquinati. E spesso i pesci tendono a mangiare, a intossicarsi degli elementi di plastica, di alluminio. E noi che comunque mangiamo pesce crudo, possono anche causarci delle malattie, mangiare dei pesci crudi. Quindi, di solito è consigliato cucinarli alla Mediterranea, farli cotti o comunque al sugo. Comunque non creano problemi di nessuna malattia. Secondo me questa è la causa principale. Non so se forse mi avete fermato per questo, non lo so. Quindi secondo te questa è la causa principale delle intossicazioni alimentari? Sì, sono arrivato al punto. Secondo me, cioè comunque fare la selezione, una differenziata, no? Sarebbe più comodo per tutti, secondo me. Di modo che comunque la gente poi non butta la roba nei fiumi, nei mari, nei lavandini. Che poi comunque vanno nel fiume, vanno nei mari, vanno negli oceani. E comunque anche gli oceani hanno degli animali, hanno degli esseri viventi. C'è una catena di esseri viventi negli oceani, soprattutto pesci. Noi siamo esseri umani, mangiamo pesci, siamo carnivori. E poi di conseguenza possono causarci dei problemi anche dannosi al nostro corpo. Non lo so, poi, cioè qualche volta mi è capitato di sentire che qualcuno è morto mangiando sushi. Non lo so, io non l'ho mai visto. Per carità, i ristoranti giapponesi, anche da un punto di vista del marketing, da un punto di vista della conoscibilità, della loyalty, così, sono molto famosi, molto conosciuti. Soprattutto i giovani, magari il fine settimana, così, per il posto di andare nei fast food, come McDonald's, eccetera, preferiscono andare al sushi. Anche da un punto di vista della listabilità è molto, diciamo, preparato, ecco, secondo me, molto attraente.